Ciao ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video che sarà un gameplay horror della mappa di slender settima strada se mi è scritto vabbè la luce è già pizzata Brian levami con la cazzo di telecamere dalla faccia cazzo è vero settima strada 7 giorni in una settimana 7 anni in una sette giorno 7 allora diciamo farò farò tutte le mappe di slender o meno tutte quelle che possiedo se lo levami dal cazzo con la telecamera di merda brian mi sto arrabbiando davvero tanto ecco primo bigliettino always watch always ma prendi un culo no sono qua con brian 9741 just brian 0,4k sono un bimbo minchia allora sei figo perché 120 fps un altro bigliettino va bene comunque c'è la finestra aperta quindi vedo tutto sfocato cioè non sfocato in stile light grey allora non ho ancora visto slendy ma un due tre stella che culo mi sono girato così al cazzo di cane per vedere slendy o ho trovato un biglietto e siamo a 3 4 siamo a 3 sembra già che non ho presi 6 però l'attenzione attenzione adesso a destra o sinistra slender da che parte secondo me a destra e la cosa è un po' sospetta magari dietro cazzo da lì l'hai visto ha le mani più lunghe di gru maledetto slender boh la cosa più intelligente da fare in questa situazione è andare in un vicolo buio alla ricerca di un biglietto strano che non so che cazzo fa fin fine che ti fa arrivare a fine del livello e dopo mori lo stesso non è scritto ha invece scopo pur cuore pur cui di rizzo vendita mi ha il mondo non voglio scherzi 4 su 8 si mica ballo da luce sembra slender scommettiamo che qua dietro a destra a a a a numero di questo cartello 7 5 entrammo nel vicolo buio si e beh se i bigliettini erano per terra in mezzo alla strada magari anche allo spawn non è che c'è tanto gusto di gioco di slender che ha disegnati i palest man black boh un uomo palloso con il vestito nero a sinistra l'ho vista una si no che l'hai vista la dimensione dei coglioni o degli handicappati non ce ne vuole però da confondere un pezzo di carta con uno questa però non si vedeva da la a a 6 su 8 noi mancano solo 2 di bigliettini 6 su 8 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Ma spaventati Ma che cazzo L'hai visto quel bastardo di Sledder Ma sei cieco Cioè ma tu lo vedi quando non c'è Quando c'è invece vai Dov'è finita la razza umana No che cazzo dice C'è un tentacolo Sette su otto manca solo un biglietto No ma f***o Sledder di merda Va bene non continuo Grazie per la visione ragazzi Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Altrimenti rimanete 33 Come degli handicapati 33 è un numero di merda Buona giornata